Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, questo è il 32esimo episodio della mia serie survival di Minecraft. Nello scorso episodio ragazzi abbiamo finito la farm di pecore colorate, abbiamo finito di colorarle tutte e abbiamo fatto questa statua qua, cioè abbiamo, ho fatto, io non continuo a ripetere che non so perché parlo sempre al plurale. Sentite qua che casino fanno ste pecore? Qui la terra non se... cioè l'erba non sempre si espande, non so perché in questa zona, non lo so. Comunque qua sono tutte colorate, in questi giorni insomma da quando ho registrato l'ultimo episodio del 31esimo fino a ora che sto registrando il 32esimo ho raccolto tutta questa lana qua e sono andato un po' alla farm di scheletri e di ragni e ho fatto un po' di livelli. Quindi adesso andremo a incantare dei libri perché cosa voglio fare oggi? Allora, innanzitutto prima di dirvi cosa voglio fare oggi voglio fare una premessa. Allora, perché sennò poi insomma dite che copio qualcun altro... Allora, io, allora, fino adesso ho visto fino al tipo novantottesimo episodio della serie Survival di Surry, ok? Quest'idea ce l'avevo da prima di vedere il novantaquattresimo, novantacinquesimo. Allora, io ve lo dico adesso che, insomma, non ho ancora visto dal novantanovesimo di Surry in poi, ma quest'idea ce l'avevo già da prima. Se no, almeno poi sembra una cosa che ho copiato e tutto. Io, in questa parte qua, o comunque lungo un fiume, ma probabilmente sarà questa zona qua, voglio mettere tutti i alberi di ciliegi. Infatti poi dovrò, cioè, voglio andare a farmarli. Ah, specifico che sto registrando questo video, il 18 giugno. Voglio, appunto, andare a farmare, cioè, a prendere, a trovare i ciliegi, farmarli un pochini e poi metterli sulle rive del fiume, sulle sponde del fiume, diciamo. In modo da creare, appunto, quest'ambiente un po' giapponese. Voglio fare una roba anche qua, magari in questa zona, qualche banchetto, come se ci fosse un Matsuri. Non so chi di voi sa che cosa sono o no. Cioè, non so se qualcun lì ve lo sa oppure no. E poi, in fondo, alla lunga stradona, con tutti i fiori di ciliegio, sì, gli alberi di ciliegio, insomma, voglio mettere tipo un dojo o un qualcosa del genere. Io, intanto, vi dico questa idea, prima che qualcuno la faccia e poi mi dite, magari, eh, ma chi me l'hai copiata o altro. Io, intanto, ve l'ho detta, così almeno sapete che quest'idea ce l'ho. Non so quando la faremo, spero presto, perché è una roba che proprio voglio avere nel mio mondo. Però, appunto, ancora non so quando la faremo. Io, intanto, ve l'ho detto. Fatemi sapere, magari, poi, se volete, proprio un episodio in cui vado a esplorare per cercare gli alberi di ciliegio, oppure se vi siete rotti nell'esplorazione e quindi niente, quindi magari me li cerco per conto mio. Oppure aspettiamo che c'è l'idea a un mercante, perché ho visto i mercanti, possono dare i sapling di ciliegio, tipo Assurri li hanno dati. Io prendo lui perché sto seguendo la sua serie survival di Minecraft, quindi prendo come esempio lui. E, appunto, possiamo anche aspettare i mercanti. Ora, fatta questa premessa, che cosa voglio fare in questo episodio? Voglio fare un falò. Sì, un falò. In questo buco qua, voglio fare, tipo, mettere un falò qua nel mezzo e poi fare una specie di ambiente tipo campeggio, no? Non so bene come fare, tipo, delle tende o cose del genere, non so nemmeno se le metterò. Però, intanto, voglio fare una zona a falò. Una zona a campeggio, una roba del genere, sì. In questo buco che c'è qua, sì, secondo me è un'idea carina. Ve l'avevo accennata anche qualche episodio fa, non mi ricordo in che episodio. Però, sì, ci potrebbe stare. Quindi, adesso, insomma, è una roba abbastanza veloce. Anche perché, ultimamente, non ho tanto tempo per registrare e editare episodi di Minecraft. Anzi, ne ho veramente pochi. Probabilmente, di qui in avanti ne avrò ancora meno. Quindi vi chiedo scusa se magari, cioè, se non escono più 3-4 episodi a settimana come prima, ma magari ne escono solo 2 o 1. Però, comunque, faccio il possibile, lo sapete. E niente. E, sì, voglio andare a fare la... Prima, però, voglio incantare qualche libro. Perché, sì, cioè, possiamo farci dei libri. Anzi, forse ce l'abbiamo di già. Abbiamo diversi livelli, quindi andiamo a incantarli. Ci manca poco per arrivare al 42, ma non importa. Allora, andiamo a vedere... Non so se farmi, magari, una pala o un qualcosa. No, proviamo a incantare i libri. Vediamo che incantamenti abbiamo. Allora, se metto un libro, abbiamo... No, più lapislazuli. Abbiamo potenza 3. Sul nostro arco c'è potenza 4. No, dai, non ci serve. Tipo così, se no... Indistruttibilità 3, ma non... Cioè, quella pala lì in realtà non mi serve. Facciamo così. Quest'arco ce l'ho ancora dalla forma di Skeletor. Ora lo butterò via, perché tanto non mi serve. Facciamo così. Flagello degli artropodi 1. Io provo a prenderlo. Ora voglio capire. Se, tipo, vado qua alla mola, posso disincantare il libro? Tipo? Sì, posso farlo. Perfetto. Non mi ridà l'esperienza, vabbè. Tanto non è fondamentale. E vediamo... Flagello degli artropodi 4. Però anche questo qua ce l'abbiamo. Riprendiamoci un flagello degli artropodi 1. Andiamo avanti così finché non troviamo qualcosa di interessante. Allora, qua abbiamo efficienza 4. Questo ci può servire... Questo ci può servire... Chi lo sa? Lealtà 3 no, perché ce l'abbiamo già. Allora prendiamo questo protezione 1 e disincantiamo il libro. Andiamo avanti così. Affilatezza 3 non è un incantamento così malaccio. Anatema 4. Anatema cos'è che faceva, raga? Ok, ho controllato aumenta il danno in flip ai mob non morti. A sto punto, ragazzi, prendiamolo. Non so se ho già anatema, però prendiamolo. E qua l'ama sferzante, efficienza 2. No, per adesso questa roba qua non ci serve. Vabbè, abbiamo incantato un po' di libri. Adesso andiamo a lasciarli nel magazzino e ritorneremo più avanti, insomma, quando potremo tornare. E per adesso, spada alla mano. Anzi, fra un po' questa qua ci sta per finire, quindi fra un po' dovremo prendere quell'altra nuova che abbiamo nella cesta, che è questa qua. Indistruttibilità 3. Affilatezza 3. L'ama sferzante 3. E ci potremo mettere anche anatema sopra. Sarebbe una spada veramente tanta tanta roba. Mettiamo intanto queste cose qua e anatema ce lo teniamo per quando finirà l'ascio, insomma. La spada, volevo dire la spada. Ora dormiamo e poi penseremo al resto. Facciamo fuori un po' di ragni. Qua ci finirà la spada, sicuramente. Ecco, infatti è già finita. Ai ai ai. Mori, 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 mori. E ora facciamo subito una corsa verso casa. Proprio correre corsa, come di sgaccia. Ora andiamo a prendere quello che ci serve per fare il nostro... il nostro... Ok, nostra... la nostra nuova spada l'abbiamo presa. Adesso andiamo a mettere anatema, appunto, su questa spada che diventerà la spada di Dioti. Ok, vediamo quanti livelli costa. Anatema è contraccolpo 2? In che senso, raga, anatema è contraccolpo 2? Da quando? Cioè, raga... Ah, no, però prende solo contraccolpo 2, non prende anatema? Ai 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 ai. Ok, allora in questo caso aspettiamo. Ma com'è possibile che abbia preso un altro incantamento? Cioè, prima era solo anatema 4. Raga, ma... In che senso? Però facendo sì solo contraccolpo. No, ok, allora aspettiamo. Aspettiamo. Però non sarebbe per niente male, eh, raga. Non sarebbe per niente male. Anche se non prende anatema... Forse ho un altro anatema? Però non so se può avere 5 incantamenti. Non lo so. Proviamo. No, non ho un altro anatema. Ma vabbè, vorrei dire che ci faremo un'altra spada con anatema, contraccolpo e affilatezza 3. Quando finirà questa? Anche se questa qua è tanta roba, eh. Eh, questa è veramente tanta roba. Vabbè. Ah no, prendiamo l'occorrente ecco per il fuoco. Allora, tanto per cominciare. Il fuoco da campo. Ok, ci serve questa roba qua. Quindi degli stick e del legno. Io userò, boh, questo qua. Tanto, insomma, di abet... No, di quercia scura. Usiamo la quercia scura che ne abbiamo un monte. Ehm... Quindi, in teoria, un pezzettino di carbone. Uno, due e tre. E gli stick, uno, due e tre. Perfetto. E, penso, il primo fuoco da campo che faccio in vita mia. Top. Eccolo qua. E sì, è la parte tipo fondamentale di quello che dobbiamo fare. Poi sì, un po' di terra. Magari vediamo se abbiamo un po' di terra brulla. Un po' di ghiaia. Magari. Ok. Vabbè, prendiamo uno stack. E poi, insomma, se non ci serve non lo usiamo. Il pozzo, un po' ci può servire. Prendiamo anche questo. E la terra brulla dove ce l'ho, ragazzi? Eccola qua. Terra brulla. Bene, io penso, basti così. Non so se prendere anche un po' di farina d'ossa, magari. Mh. Non lo so. Prendiamo, dai, un po' di farina d'ossa, sì. E poi che altro ci può servire, raga? Penso, basta. O ci prendiamo un po' di fence da mettere un po' così a caso. Sì. E delle lanterne? Le faccio? Ah, ne ho sei. Vabbè, in caso ho queste. Allora, andiamo subito a fare la nostra cosa. Anche se farla di notte sarebbe meglio, eh. Vabbè, noi intanto la facciamo. Poi, semmai, insomma, aspettiamo la notte per vedere l'effetto finale. Allora, questo io lo metterei. Allora, leviamo la torcia qua. E questo lo metterei in un punto abbastanza centrale. Qui. Onesto. O un blocco più in là. No, magari mettiamolo più in qua. Tipo, no, però se lo rompo... Eh, cazzo, devo rifarlo? Eh, sì, devo rifarlo. Sì. Se lo rompo, eh, devo rifarlo. Che coglioni, raga. Però abbiamo capito che se facciamo un... Cioè, possiamo convertire il carbone in carbonella con il falò e basta. Cioè, facciamo un falò col carbone, lo ristruggiamo e ci dà due pezzi di carbonella. Quindi è, diciamo, una forma di carbone, di carbonella. Boh, vabbè. A parte le cazzate. Allora, questo ce lo riprendiamo. Io, raga, me ne farei quasi un altro. Perché, insomma, se la situa è questa, lo facciamo. Almeno, insomma, ce l'abbiamo. E se poi sbagliamo a metterlo qua ce l'abbiamo. Non so, tipo... Ok, perfetto. Non sapevo se poteva starci in uno solo. Vabbè, avete capito. Facciamo perdere. Qui, tipo, mettiamolo qua. Dovrebbe essere in una posizione abbastanza centrale. Vediamo. Sì, dai. Ok, o se no più in qua. No, no, dai, lasciamolo così, va bene. Ora che ne ho fatti due, ovviamente il secondo non serve. Vediamo, eh, perché ancora non è detto. Però non credo serva. E sì, io ne terrei uno. E poi intorno ci metterei, allora, un po' di pozzol. Un po' di terra brulla. Ghiaia, non lo so. Il pozzol mettiamolo, tipo, qua. Qua, qua. Qua, magari. La mia palla dov'è? Dov'è la mia palla super, ultra, spettacolo? Boh, non lo so, l'avrò messa da qualche altra parte. E, 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 occhio a non prendere danni. La terra brulla la mettiamo qua sotto. Meno male, avevo paura se distruggesse il coso, il falò. Allora, lì sì, mettiamo la terra brulla. La mettiamo magari anche qua. Poi un altro po' di pozzol. Allora, leviamo ste cose, non ci servono. E la ghiaia anche. Sì, dai, questa palla, mettiamola qua. Allora, possiamo mettere un po' di terra brulla, magari anche qua. Qui, magari. Lo so. Sto improvvisando un po', eh, raga. Non so se si è visto, ma non so bene dove mettere tutte queste cose qua. Sto un po' improvvisando. E poi metteremo un altro po' di pozzol qua. Qui, magari. E dove posso metterlo poi? Anche qua? Mettiamola anche qua. Qui, magari, della ghiaia. Così, oppure anche qua. Sì, e poi lasciamo magari, ecco qua, un po', anche qualche blocco di erba ci può stare. Altra terra brulla potremo metterla qui. Non lo so, io sto, raga, sto improvvisando. Non sono bravo, non sono né creativo né bravo con queste cose. E possiamo fare... No, questa no, riprendila subito. Come posso fare qua? Perfetto. E poi, raga, potremmo mettere anche, tipo, un po' di... Vedete? Di terra. Questa qua tagliata, cioè, spalata, non so come dire. Così, tipo, una roba del genere. Che dite? Ci può stare, secondo me. Tipo così, anche qua. Quassù. Boh, dai, è una roba carina. Qua ci posso mettere, forse, un altro blocco di terra brulla. Tipo qui. E poi magari zappare qua. Com'è? Dai, non è male. E... Qua? Un po' di puzzle. Qua ci voglio mettere qualcosa, ma non so cosa. No, sennò facciamo così e basta. Dai, va bene. E poi adesso possiamo mettere qualche fence, qua e là. Tipo qui. Qui. A caso, eh? Così. Qua, meglio di no. Qui, magari, qua. Così, una roba del genere. E le lanterne... No, lanterne no, dai. Mettiamo magari un po' di farina d'ossa. Tipo se spammo un po' qua di farina d'ossa, così, viene una zona un po' più per il campeggio. Sì, lo so, l'erba l'ho allevata tutta, ma perché dovete sapere che l'erba mi fa cagare se nasce da sola. Cioè, tipo questa qua mi fa schifo. Ma se metto la farina d'ossa, la farina d'ossa, diciamo, è meglio. Infatti questa qua che non ho messo io, leviamola. Perché stona, voglio che l'erba ci sia solo qua dove ce l'ho messa. E tipo questa qua leviamola, che non la voglio. Questa qua, questa ce l'ho messa io. Leviamo questa. Questa qua la leviamo. Ragazzi, direi che è una zona abbastanza carina, che dite? Forse c'è un po' troppa erba qua. Leviamo un po' di questa qua, così. Vai. Così dovrebbe essere a posto. Sì, è una zona abbastanza carina. A me piace, raga, che dite? Facciamo che ci ripensiamo dopo aver dormito, che qua sta facendo notte. Vediamo da qua su che effetto fa. Non si vede tanto, però dai. Facciamo finta di riuscire a vederlo. Anzi, no, scendiamo che è meglio. Vediamo, tipo da qua, che effetto fa. Allora qua c'è il fumo, quindi già molto bellino. Raga, ma sapete a me piace? L'unica cosa, magari, ecco, per rendere ancora meglio dovremo levare tutta questa erba qua. Sì, raga, io non lo so. Ho questo problema con l'erba che non mi piace per niente. Cioè, preferisco sia tutto più pulito. Questi fiori magari teniamoli, ma... Non lo so, potremmo levare anche questi. Sì, qua deve essere tutto, tutto pulito. Leviamo qua tutta questa erba. Io non la voglio vedere. Perché vi ripeto, se cresce da sola è orribile. Se ce la metto io, tipo col buon meal, invece mi va bene. In questo caso, vedete, voglio parecchia erba. Qua ce l'ho messa io ed viene un effetto molto più carino in mezzo a questo falò. In questo caso, ci sta. Se no, no, se no non mi piace. Comunque, ok, ho approvato che la mia creatività non è il massimo. Però almeno stavolta sono abbastanza soddisfatto di quel che ho fatto. Cioè, sì, non ci ho messo tanto, è una cosa un po' semplice. Però ho usato un po' di blocchi che avevo. Dai, sono contento. Cioè, per come sono messo io, diciamo, è già abbastanza buona come cosa. Vediamo un altro po' di erba. Io di solito non ho molta creatività, fantasia o altro. Quindi, cioè, soprattutto per queste cose, decorazioni e altro. Magari mi pigliano i momenti in cui riesco a fare qualcosa, in cui tiro fuori tutta la mia creatività e fantasia. Ma ecco, non ci sono, non capitano spesso. Ora, dai, diciamo, è andata abbastanza bene. Poteva andare peggio, ecco, mettiamola così. Ok, un po' di erba l'ho levata. Vediamo da quassù come viene. Ragazzi, sì. Cioè, allora, io leverei questo fiorellino giallo. Magari mettiamolo più vicino. Perché secondo me, cioè, ci può stare, ma mettiamolo qua. Lo so, l'ho spostato di un blocco e voi direte, ma che l'hai spostato a fare? Ok, però tutto fa, secondo me viene una roba già più carina. E infatti non è troppo distante, perché lì prima c'era l'erba, l'ho levata. Ora invece, dai, così ci sta. Potremmo mettere anche qualche lanterna? Che faccio? Provo a metterla. Magari, che ne so, una qua. Tipo uno, due. Giusto per fare un po' come, per levare queste torce qua, come se fosse, diciamo, una lanterna per un posto da campeggio, diciamo. Una roba simile. E leviamo anche questa torcia qua, mettiamo un'altra lanterna qui. E leviamo questa. Ok. Vediamo un po' come viene, ragazzi. Io, insomma, ora aspetto che arrivi notte. E sono fiducioso, spero verrà un bel lavorino. Sì, sì, speriamo, dai. Sono fiducioso. Aspettiamo che arrivi notte adesso. Che poi, tipo, è quasi appena sorto il sole, sì che... Vabbè, aspetteremo un po'. Però sono contento, dai, molto carino. Sì, sì, sì. Ci sta, ci sta, ragazzi. Almeno abbiamo dato un po' di colore e di utilità anche a questo buco che c'era qua vicino a casa nostra. Era da tanto che ci volevo fare un falò. E ora sono contento. C'è anche questo fumo. Bene, ragazzi. Sì, sì, sì. Sono contento del risultato. Non sarà niente di che. Magari a voi non piacerà. Non lo so. Spero che vi piaccia. Fatelo sapere. Però io, appunto, sono contento del risultato. Leviamo anche questi fiorellini qua che... Sì, carini, però, non lo so... Ci sta a levarli, secondo me, per adesso. Lasciamo i materiali qua nel magazzino. E possiamo anche illuminare un po' più la zona. Almeno se riesco concludo l'episodio di notte. Così si vede meglio l'effetto che fa il falò. E poi, almeno, sfruttiamo un po' questo tempo che ci manca prima che faccia notte. Illuminiamo un po', sperando che i mob poi non vengano a farci visita e ad ammazzarci. Ah, qua avevamo già della farina d'ossa. Me ne dimentico sempre. Poi questa name tag, in teoria, potremmo usarla per portare Jeb. C'è una pecora chiamata Jeb dentro il recinto delle pecore colorate, insomma. Ah, se vi state chiedendo cosa sono queste due spade in pietra, sono quelle che mi faccio sempre quando vado, tipo, alla farm di scheletro o di ranni, almeno uso queste due invece che usare una spada buona, diciamo. Mettiamo un po' di torce qua, così, in modo da illuminare tutto e da non far spawnare mob da nessuna parte. Perché, insomma, se vengono qua, mentre stiamo facendo... mentre stiamo chiedendo il video e ci fanno esplodere tutto, ci fanno anche girare abbastanza i coglioni, perché con quanto ci abbiamo messo per far... Cioè, no, non ci abbiamo messo niente, effettivamente. Però, insomma, girerebbe coglioni, cioè, è venuto così bellino. Guardate che carino, sì, sì, sono proprio fiero. Ok, vediamo, tutto tranquillo, sembra tutto tranquillo. Andiamo a vedere, allora, com'è di notte. Caruccio, raga, caruccio. Tutto illuminato, caruccio, sì, sì, sì. Mi piace, mi piace parecchio. Sì, 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 devo dire, sono molto fiero di questo. Forse è anche un... No, in realtà, no, troppo illuminato, no. Va bene così, va bene così. Sì, 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 no, va bene così. Dai, cioè, comunque, se guardi tutto il cielo è scuro, è notte, là è tutto buio, e guardi qua, è tutto illuminato, c'è questo campeggio bellino, raga, molto bellino. Quindi, ragazzi, io spero davvero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, ricordatevi di lasciare like, commentare, condividere e iscrivervi al canale. E ricordatevi anche che a 1500 iscritti uscirà la mia top 10 manga e anime, quindi non perdetevela. Inoltre, se vi siete persi gli altri episodi di questa serie, trovate la playlist in descrizione o qua su nella in alto a destra. Poi vi ricordo anche di passare da Instagram e da TikTok, che trovate sempre in descrizione o qua nella schermata. E niente, ragazzi, detto questo, io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. da rada.